Ruben sei sei handicappato eh, giusto te? Io ero un po' la voce muacca Ruben sei sei handicappato perchè Rick ha detto sto aggiungendo Carmine e Blue Quanto gli si vuole? Era bello andato su Skype e ero tornato sul gioco Era chiaramente fermo E poi avevo 225 di vita, se togli ai meno allora scusami, dovrei ammazzare A me forse i soldi ti togli meno, io avevo 200 di vita, ho fatto i prodotti e ero a 140 Non assento Oh basta, fupido P2Play nel Gradot Tanto usa il Rage Mugla Aaaaaaah Che c'è? Che c'è? Che c'è? Cazzo di P2Play La Gradot farà nell'acqua, fa tutto il petto Guarda, guardate il 5 Ah, la mia macchina in faccia M, M, M di mamma Seguimi a Rick, segui Arrivaa 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 Vai su Cazzo per un film No, cazzo Che cazzo fai Andre Cazzo fai Si lo so Cazzo fai M, 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 M Cazzo fai Cazzo fai Cazzo fai Non lo vedo Andre, tebile De, 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 cat Cazzo fai Cazzo fai Sì E arriva primo Ghost e Ghost Ruben No, 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 no Ricca, guarda Ruben come ha scritto Ghost Guarda l'inglese Ghost Guarda, dai, Ruben C'è Cristo Un cecchino brutale Ghost nappa Ah, Ghost nappa Ah U, mi ricordo la LaMail 2 secondi Sono trovato la Highlander Non mi ricordo che Inizia a traballare E poi rallenti se ti mettono Inizia a tremare la mano E allora in quel momento capisci che lo sniper gli si sta facendo una sega Grazie 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 Grazie